rosa e blu quindi quindi allora c'entra questa quindi fai fame lo faccio anche abbastanza grado si si vado a rincare vecchio khmik sei scemo nooo ah gli rimanno proposto fai un video sulla chimica dei rutti c'è chimica nei rutti c'è chimica nei rutti scopriamolo insieme esatto Harry Potter non esiste taggi aumentandone le prestazioni aumentandone notevolmente le prestazioni con i due problemi che non fanno passare ossigeno e d**a, culo a tutti quanti fanno passare ossigeno sono rigide spiegami mi sono usciti i capelli sto partito mi metto Eccomi, sai ti stavo proprio aspettando Ero qui, ti aspettavo da tanto tempo, tanto Quasi contemporaneamente il presidente Franklin Derano 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 Der Der Derano Deruma Vado Non sei al centro, voglio vedere com'è, quando arrivo anch'io Ci siamo, siamo i fratelli della chimica Oh yeah Sei stanco di vedere le solite interpretazioni della chimica? Sei stanco di vedere sempre dei riflessi di MegaGlass sopra il tuo schermo? Te li tieni? Te li tieni perché non puoi farci niente perché tu non sai usare schifo di cane moto di Adolipro Premiere! Come al solito del resto, se se vuole essere... se volesse... Ma non ce la posso fare! Se volete essere voi quelli che si informano, vi lasciamo le fonti in descrizione, Cristo! Come al solito! Dunque, il metallo incandescente viene battuto con martello in cudine finché non si ottiene la forma e la lunghetta zizzerata. Zzzzerata. Non si ottengono, magari. Quindi vi diamo l'appuntamento al prossimo bellissimo, ma molto meno dolce video... Ma molto, porca... Vabbè, dai, rifacciamo. Ma molto, ma molto meno dolce video di fame chimica. L'acqua fredda sul fondo dell'agro... Lagro. Perché stavo pensando già a Migra. Porca... Questi adorabili bestiole possiedono un pigmento che si chiama clorocrurina. Che a rispetto del nome non ha... Clorocrurina! Non contiene cloro! Perché? Liquido di raffreddamento che poi non raffredda più a dovere. Causando una modifica positiva... Va f***o! Che porta a un aumento di temperatura. Che porta alla formazione di più vapore. Che porta più reattività. Che porta più temperatura. Dando così via al ciclo... Porca... Porca... Il reattore utilizzato alla centrale di Cernobil era di tipo RBMK. E presentava in queste condizioni... Codinzioni. Dai, codinzioni. E poi mi sono scordato come continua vaffan... Quando in cieco Slovacchia vien... Viengono, viengono a Mieko. Infatti a differenza degli esseri umani che smaltiscono l'emoglobina nel fegato trasformandola prima in biliverdina e poi in bilirubina... Bilirubina? Chi c***o se lo ricorda? In seguito quindi al blocco delle importazioni, gli Stati Uniti si trovarono... Si trovarono... Era bellissima! Più o meno... Sta registrando. Sono tipo giallino. Ok. Sto bene? Come facevo con un rispotano. Batti le mani. Il tataro vien... Il tataro. No. No, stavo andando benissimo. No! Stavo andando da Dio. Molto bene.